L'audacea Cerignola conquista la promozione in eccellenza pugliese ma senza festeggiamenti di alcun tipo. Sia la società che i tifosi hanno deciso di non fare nulla di quanto era in programma dopo la splendida finale di Coppa Italia vinta in cravina a seguito della morte di un ragazzo tifoso della squadra locale domenica sera in un tragico incidente stradale in città. Per rispettare il lutto è stato osservato un minuto di raccoglimento prima dell'inizio della gara e a conclusione i giocatori si sono recati nella curva vuota degli ultra per rendere omaggio allo sfortunato ragazzo. Per la cronaca la gara è finita 6-1 per i giallazzuri con le firme di Schiavone, Doppietta, Monopoli nella ritoesa a segno russo di Pasquale, Colucci e la Salandra. Il gol della banniera ospite è di Sissè.